il 28 luglio del 2016 così si esprimeva su mario draghi e il figlio giacomo la signora giorgia meloni volevate un altro motivo per dire basta all'euro dei banchieri usurai e lobbisti eccolo giacomo draghi il figlio di mario draghi presidente della bce che decide la politica monetaria dell'eurozona lavora per la banca d'affari morgan sterling e specula sui bond e sull'andamento dei tassi cioè specula e guadagna in base alle decisioni prese dal padre mario draghi ha detto che non c'è niente di strano ma veramente questa gente ci prende tutti per scemi l'europa vive una crisi profonda cresce la povertà cresce la disoccupazione ma per i tecnocrati e gli affaristi le cose vanno sempre alla grande riprendiamoci la nostra sovranità la nostra libertà prima che queste sanguisughe ci tolgano l'ultima goccia di sangue questo è il melone il pensiero non è trascorso un secolo sono solo sei anni e ora segue la via tracciata dal signor maio draghi contenta e giuliva felice e porta al pascolo il gregge di pecore di cui è composta la maggioranza del popolo italiano iscriviti al canale